a roma ci sono delle galline che sono felici andiamo a conoscerle oggi con maurizio cilia buongiorno maurizio buongiorno a te perché sono felici le tue galline vivono naturalmente senza costrizioni senza medicinali e non uccidiamo neanche a fine carriera hanno ricovero notturno escono all'alba stanno in giro tutto il giorno mangiano giocano fanno i bagni di terra e la sera al tramonto rientrano che cosa vuol dire il bagno di terra loro si mettono nella terra si riempiono poi si alzano si muovono in quella maniera tolgono tutti gli infestanti e così non dobbiamo dare antibiotici non dobbiamo dare medicinali un allevamento di questo tipo a mi dicevi circa 3.000 4.000 galline ma un allevamento in gabbia può arrivare anche a un milione hanno milioni di galline loro negli allevamenti intensivi ogni 18 mesi le galline vengono cambiate perché sono meno produttive qui è un ciclo naturale perché loro fanno le uova fino a tre quattro anni cinque anni qualcuna ma in maniera completamente naturale una gallina fa un uovo al giorno in queste condizioni si fa un uovo ogni 26 ore rispetto ai grandi numeri degli allevamenti intensivi dove le usano come macchina la guerra nelle giornate normali c'è un tot di ore di luce negli allevamenti intensivi lasciano sempre luce accese per far sì che sia sempre giorno questa felicità naturalmente si ripercuote sul prodotto finale l'uovo che caratteristiche ha assolutamente sì perché essendo così felici non trasmettono nessun tipo di stress all'uovo quindi l'uovo è molto più delicato molto più profumato se non si sente l'odore dell'albumina maurizio prima dicevi che recuperate le galline anche a fine carriera che cosa vuol dire vuol dire che noi non uccidiamo le galline a fine carriera una volta che smettono di fare le uova le nostre galline e oltre a questo andiamo negli allevamenti intensivi a prendere delle galline che altrimenti andrebbero al macello le togliamo dalle gabbie e le portiamo qua gli diamo gli diamo spazio le lasciamo nel nostro pollaio pensione fino alla morte naturale per dargli almeno una parte di vita dignitosa accompagnami a salutare queste galline anziane anziane che vuol dire quanti anni hanno queste galline hanno circa cinque anni e le abbiamo recuperate grazie al progetto salvato una gallina da aziende che le tenevano in gabbia e le avrebbero mandato al macello